MWK Fusion, la piattaforma che è uno dei prodotti di punta presentati da Mura Elettronica SPS Italia, un progetto che possiamo dire senza tema di sbagliare che va nel segno dell'integrazione. Sì, è un prodotto nuovo che presentiamo quest'anno e integra tre funzioni che sono presenti nei nostri sistemi di automazione in un unico modulo Profinet. Le tre funzioni sono quelle classiche dei sistemi di automazione, cioè il Safety, gli I.O. standard e le porte I.O. link. In questo modo, con un unico modulo, si riesce ad avere una combinazione praticamente infinita di applicazioni, in quanto dal lato Safety abbiamo sia ingressi che uscite, mentre dal lato I.O. standard abbiamo quattro punti liberamente configurabili e come dispositivi I.O. link si possono collegare praticamente tutti gli I.O. link device che possono essere pacchi valvola o convertitori analogici oppure si può espandere il lato I.O. standard con degli hub I.O. link che sono anche uno degli I.O. link device appunto che abbiamo disponibili come Muro Electronic. Qual è il mercato a cui si rivolge questo tipo di prodotto? Chi è interessato a fare un passo nell'innovazione con la tecnologia a bordo macchina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.